Ciao a tutti, mi chiamo Giuseppe Cristiano e tra le varie attività mi occupo anche di fumetti. Cercherò di darvi qualche idea e qualche aiuto per il vostro progetto. Più che altro vi darò qualche consiglio, qualche dritta che ho imparato negli anni. Prima di tutto per creare un fumetto ci vuole una storia e per creare una storia ci vuole un'idea. Questa è la parte più difficile per un disegnatore di fumetti, per un autore, per un creatore, per un artista. Dovete sapere che tante volte i disegnatori di fumetti non scrivono le loro storie, ma ci sono altri tipo sceneggiatori, autori, che appunto scrivono le sceneggiature. Anzi, proprio per le strisce, visto che si tratta di poche vignette, tipo due, tre, quattro, è ancora più difficile raccontare una storia. Cominciamo a guardare il formato, cioè la grandezza del fumetto che si vuole creare e ovviamente cominciamo a guardare anche le nostre limitazioni. Sappiamo che si tratterà di uno spazio limitatissimo, 26 cm x 8 cm. Quindi in questo spazio dobbiamo riuscire a creare una storia, una sequenza di immagini che potrebbero contare anche fino a quattro vignette. Potrebbero esserne tre, oppure due, o ancora quattro. O anche una sola. Dovete sapere che anche i disegnatori, per esempio della Bonelli, che disegnano Dylan Dogg o Tex, hanno tante limitazioni, tante regole da rispettare. Per esempio una di queste è la lunghezza del fumetto, che deve essere incluso in un numero preciso di pagine. E per ogni pagina hanno anche un limite massimo di vignette, che possono essere cinque, quattro, sei. E tutto ciò sono le regole che devono rispettare per raccontare la loro storia. Quindi diciamo, non è assai semplice, non si tratta di sedersi e disegnare un fumetto, ma bisogna pensare, vignetta per vignetta, come spiegare la storia, come raccontare l'avventura del fumetto. Quindi quello che noi chiamiamo comunemente formattare il testo, cioè fare in modo che la storia si possa spiegare in un certo numero di pagine e in una certa sequenza di vignette. Quindi, per quanto riguarda il nostro progetto, sappiamo che si tratterà di una striscia che conterà al massimo quattro vignette. Ecco, questo è un buon punto di partenza. Adesso quello che dobbiamo fare è ovviamente trovare un'idea. In realtà non è sempre difficile trovare una buona idea, anche se conosco artisti professionisti che molto spesso sono bloccati dal fatto che non hanno idee. Ma in realtà si tratta che magari hanno troppe idee e non riescono a scegliere, o comunque sono preoccupati di dimenticarsi qualcosa e quindi cercano di ricordarsi tutto e a quel punto si bloccano e non riescono più a scrivere o a disegnare la loro storia. E questo infatti noi lo chiamiamo artist block, blocco dell'artista. Troppe idee per la testa, non si sa che cosa scegliere e si rimane bloccati. Le idee in realtà sono tutte intorno a noi, ogni giorno, ovunque. Basta saperle trovare o meglio sapere dove cercarle. Un semplice trucco che viene anche usato dagli sceneggiatori del cinema o della televisione è quello di leggere i giornali e trovare spunto dalle varie notizie, specialmente le notizie di cronaca. Molto spesso basta una notizia per stimolare la fantasia e quindi creare, partendo da quella notizia, è una storia che poi alla fine sarà differente perché ognuno ci aggiunge i propri dettagli o man mano che ci si lavora sopra. L'importante è avere un punto di partenza, un'ispirazione, un fatto, una notizia che può essere interessante e che può essere sviluppata poi in un secondo tempo. Un trucchetto che anche io uso qualche volta quando scrivo le mie storie è quello di prendere parole a caso, magari dal dizionario, da un libro, da una rivista, qualcosa che sto leggendo, punto il dito a caso e trovo delle parole che mi interessano senza sceglierle, deve essere casuale. Le scrivo magari su un foglio di carta e poi cerco di creare una connessione tra le varie parole. Quindi diciamo cerco di scrivere una storia usando questi elementi. queste parole selezionate. Questa cosa può essere anche divertente perché tutte queste parole possono essere scollegate tra di loro. Per esempio, ho trovato magari le parole coniglio, macchina, ladro. Diciamo parole che dette così non avrebbero alcun senso, ma se io provo a collegarle, magari inventandomi che so, che un ladro ruba una macchina dove all'interno il proprietario ha lasciato per sbaglio il proprio coniglio e poi la storia sarà che il coniglio dovrà trovare la strada di casa e quindi scappare dalla macchina, eccetera, eccetera. Adesso è banale detta così, però questo è un esempio come per esempio si possono creare le storie. Un altro metodo che io uso spesso per creare le mie storie è tipo usare i post-it, che sono questi fogliettini gialli per scrivere note. Ecco, io cosa faccio? Scrivo sui post-it le cose che, così come mi vengono in mente, per una storia che magari sto scrivendo, che potrebbe essere una persona si sveglia, persona va al lavoro, persona incontra amico e così via. Detta così non ha molto senso, fino a che la storia incomincia a evolversi e mano a mano che io ho idee, diciamo, di quello che questa persona farà o che cosa succederà a questa persona, aggiungo altri post-it oppure li cambio, oppure li tolgo. Insomma, faccio un lavoro di montaggio, diciamo, di questa mia idea, fino a che non esce fuori una storia. Una storia la si scrive così come la si racconta. E' quello che noi chiamiamo sinossi, o in inglese sinopsis. Praticamente non è altro che il sunto della storia che si deve scrivere, che si andrà poi a scrivere in dettaglio. E' semplicemente la storia, magari senza dialoghi, con un minimo di descrizione, così come la raccontata ad un amico. La sinossi si usa nel cinema, nella televisione, insomma, nell'entertainment. Si usa un po' dappertutto per presentare progetti e idee. E lo si usa anche nei fumetti. Ovviamente uno sceneggiatore non scriverà tutta la storia, farà un sunto per l'editore, spiegherà per sommi capi quello che succederà e poi, quando viene approvata, lui scriverà i dialoghi, le scene in dettaglio e le descrizioni per gli artisti. Ho detto prima che la storia, la sinossi, è praticamente come la raccontereste ad un amico ed infatti è quello che poi andrete a fare per le vostre idee. Le dovete raccontare magari ai familiari o ai compagni o ad amici la vostra idea e anche per avere delle critiche. Le critiche sono importanti per capire se la storia funziona, se l'idea è buona, se potrà piacere, se convince. E man mano che si raccolgono le critiche si può migliorare il racconto, si può migliorare la storia. Magari qualcosa che non avete notato all'inizio della vostra idea non può funzionare, magari qualcuno vi suggerisce una soluzione migliore e così via. È sempre buono chiedere il parere degli altri quando si lavora in una storia. Poi si valutano dopo, insomma, i commenti possono anche essere completamente fuori strada, però uno deve ascoltare, se deve sapere ascoltare, deve saper accettare le critiche perché con le critiche si migliora il proprio lavoro. Dovete sapere che spesso ad Hollywood, quando producono i film, ancora prima di completarli, li proiettono a persone scelte per caso, per strada, per vedere appunto se la storia, se il film, se il finale della storia funziona, per esempio. Succede che alla fine della proiezione a queste persone che sono state invitate in questo cinema viene dato un foglio, una specie di questionario e ognuno di loro è libero di fare i propri commenti, di valutare se il finale della storia era valido, di magari commentare se i personaggi erano credibili, e eccetera, insomma, tutte queste critiche vengono poi raccolte e in base a quelle i produttori decidono se cambiare o meno il film, il finale o comunque altri elementi della storia. Ecco perché qualche volta nei DVD, negli special features, negli extra, si possono vedere diversi finali dello stesso film o ci sono delle scene che vengono tagliate. Ecco, questo è perché comunque è importante che ci sia anche una critica del pubblico che aiuta quindi i produttori a scegliere il miglior formato del film. Quando avete ripulito la storia, magari aiutandovi con i commenti dei vostri amici, è tempo di scrivere la storia così come la dovete raccontare nella vostra striscia, nel vostro fumetto. E quindi i dialoghi, le descrizioni delle vignette e così via. Come scrivere una sceneggiatura o l'idea, insomma, è abbastanza semplice. Per esempio, andremo a scrivere vignetta numero 1, descrizione e dialoghi Vignetta numero 2, descrizione dialoghi e così via. Questo ci serve a capire, a definire le vignette. La descrizione è semplice. Una stanza, un appartamento, un parco bisogna magari definire se è giorno e notte. Per esempio, verrebbe scritto in questo modo il luogo, che può essere parco giorno così sappiamo se dobbiamo disegnare appunto giorno o la notte i dialoghi vengono scritti con il nome del personaggio chiamiamolo personaggio 1 e poi il dialogo che può essere la frase che il personaggio 1 dirà. se nella stessa vignetta c'è un altro personaggio che parla se si aggiunge personaggio 2 e il dialogo e così via. Diciamo, alla fine è semplice perché la si deve raccontare così come la si immagina la scena quindi al tempo presente per esempio parco personaggio cammina con il suo cane incontra un amico personaggio 1 magari ciao come stai la forma di dialogo personaggio 2 faccio una passeggiata con il cane eccetera eccetera è molto semplice tutto può essere semplificato in una semplice paginetta l'importante è che fate un po' di ordine nella struttura dove definite bene qual è la vignetta 1 qual è la vignetta 2 e quali sono i dialoghi e chi sono i personaggi che li dicono. Una cosa molto importante per gli artisti è proprio l'organizzazione anche perché non è detto che l'idea venga subito fuori al momento giusto e molto spesso magari non si ha voglia di disegnare oppure si inizia a fare una tavola o una vignetta e poi si stanca perché magari si vuole uscire con gli amici o c'è un programma in tv che è più interessante di stare lì seduti a disegnare oppure non si è nell'umore giusto o nell'umore creativo questo non è un problema è normale che magari un artista mentre lavora ha bisogno di una pausa ma l'importante è che quando si lascia il lavoro sulla scrivania lo si ritrova lì insomma o che non è difficile ricominciare a lavorarci su perché gli artisti sono abbastanza pigri io lo so come lo sanno tutti i miei colleghi certe volte iniziare il lavoro è la parte più difficile perché bisogna organizzarsi e se non si è ordinati se non si hanno le cose al posto giusto eccetera questo inizio questa partenza diciamo è lenta e magari può portare insomma un po' di svogliatezza al lavoro e queste cose le si vedono poi sui disegni magari sono tirate alla buona o così giusto per finire al più presto diciamo il problema dell'organizzazione lo risolve per esempio se si conserva il materiale nello stesso posto per il vostro progetto vi consiglio di procurarvi delle cartelline dove potete mettere tutto il materiale che di volta in volta raccoglierete per esempio potete inserirci i ritagli di giornale che trovate interessanti delle foto delle notizie delle piccole note degli sketch che fate a scuola dei suggerimenti che qualcuno magari vi ha dato li mettete tutti in questa cartellina così sapete che è tutto nello stesso posto la troverete lì quando vi trovate ispirati per il vostro progetto io per esempio ho sempre con me un piccolo blocchetto dove raccolgo le mie idee i miei le mie idee i miei progetti diciamo a volte disegno a volte scrivo delle note per delle cose che mi che mi sono venute in mente in quel momento magari ecco magari l'idea per un per un fumetto in questo modo scrivendolo come vi ho fatto appena vedere con la descrizione della vignetta e quello che succede dentro oppure semplicemente abbozzo qualche sketch qualche bozzetto che poi mi serviranno più tardi quando ho voglia di disegnare il fumetto la storia e diciamo che quando non ho idee quando penso di non avere idee o comunque quando sono in cerca di qualcosa di nuovo da fare sfoglio il mio librettino e ci trovo cose che poi alla fine avevo dimenticato ma una storia ha bisogno di personaggi ed è questa forse la parte diciamo più divertente ma anche più difficile per un creatore di fumetti il personaggio deve piacere al lettore e deve essere facilmente riconoscibile se avete se avete notato molto spesso nelle strisce umoristiche i personaggi indossano sempre gli stessi vestiti hanno lo stesso look gli stessi capelli insomma sono praticamente disegnati allo stesso modo anche se di strisce ne fanno cento mille insomma per esempio Snoopy Lupo Alberto adesso non mi ricordo Calvin and Hobbes Topolino tutti questi personaggi sono praticamente vestiti sempre allo stesso modo ecco perché uno li deve riconoscere anche Dylan Dog è disegnato indossa sempre gli stessi jeans la stessa maglietta poi un personaggio deve essere simpatico anche se spesso sono i personaggi cattivi ad avere più carisma nei cartoni animati della Disney per esempio i cattivi non sono mai tanto cattivi sono cattivi ma sono anche divertenti perché devono piacere perché il pubblico deve comunque deve anche dispiacere quando il cattivo perde in un certo senso si deve divertire ma magari diciamo il cattivo non deve veramente perdere deve soltanto sparire dalla storia per poi ritornare in un'altra storia per esempio in Batman i cattivi hanno molto spesso più personalità perché sono più la storia diciamo è più incentrata su di loro che sull'eroe che poi alla fine salva tutti insomma un trucco per creare un personaggio un personaggio che funzioni un personaggio che sia abbastanza realistico o comunque credibile è quello di mettere nel personaggio aspetti del proprio carattere diciamo questo perché un personaggio anche se disegnato deve avere una personalità e siccome noi conosciamo bene noi stessi allora possiamo dare al nostro personaggio qualche particolarità non solo nell'aspetto ma anche nel modo di parlare di muoversi se il personaggio ha un tic particolare se ha dei gusti se fa delle stesse routine eccetera eccetera insomma se riusciamo ad aggiungere quel pizzico di personalità anche nostra allora il nostro personaggio diventa credibile nei fumetti i disegnatori molto spesso per creare un personaggio lo disegnano tantissime volte provano diverse combinazioni cambiano diversi tipi di vestiti di abbigliamento di stile lo si fa per abituarsi a disegnare il personaggio in tutte le pose possibili di profilo di fronte diciamo per essere capaci di disegnarlo anche velocemente infatti lo si fa si disegna il personaggio tante volte per abituarsi allo stile al tratto e più si disegna più si rimuovono i dettagli poco importanti si incomincia a semplificare anche perché meno dettagli ci sono nel personaggio e più è riconoscibile più dettagli ci sono più diventa complicato ogni volta ridisegnarlo se ci fate caso infatti i personaggi più più popolari sono quelli molto più semplici tipo Charlie Brown tipo Topolino insomma quindi quello che dovete fare adesso a questo punto una volta che avete un'idea e avete un personaggio in mente dovete esercitarvi più volte a disegnarlo in qualsiasi posizione che vi viene in mente in qualsiasi situazione magari il personaggio che corre il personaggio che apre una porta il personaggio che scende le scale il personaggio che guarda la tv eccetera eccetera il personaggio di profilo insomma in qualsiasi situazione che vi venga in mente un altro trucchetto o comunque un'altra dritta che vi posso dare dalla mia esperienza è quella di provare poi a disegnare il personaggio usando diversi tipi di penne e materiale diciamo qualsiasi cosa vi trovate a disposizione così vi abituate magari alla matita al pennarello al pennino per esempio usando diversi tipi di materiale come che ne so la penna diciamo il pennarello largo magari un pennarello grigio per fare delle sfumature oppure magari pennarelli con la punta con diversi tipi di punte questo perché usando diversi diversi tratti il disegno diventa più interessante per creare un personaggio si comincia dalle forme per esempio questa qui ovviamente sarà la testa questo è il corpo e poi aggiungo le braccia le gambe a seconda del mio personaggio di come me lo immagino se disegno una faccia la costruisco in questo modo la croce mi rappresenta la direzione diciamo dove il personaggio sta guardando e così via di solito nei fumetti umoristici i personaggi hanno le teste un po' sproporzionate più grandi del solito perché se si fa un corpo per esempio si dice che la testa è più o meno otto parti diciamo del corpo intero quindi se noi dobbiamo calcolare questa come proporzione del nostro personaggio per otto volte invece per un personaggio comico un personaggio umoristico uno può fare anche cose del genere delle gambine piccole delle braccia insomma più o meno così corte e delle teste un po' grosse per fare personaggi umoristici uno non guarda tanto le proporzioni realistiche l'anatomia insomma come è in realtà ma si 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 creano un po' cose che ci piacciono magari con personaggi completamente di fantasia quando poi a un certo punto decido che sono vicino alla direzione che che mi piace diciamo il personaggio comincia a diventare qualcosa di interessante e allora io in quel punto inizio a quel punto inizio a lavorare un po' più nei dettagli diciamo che più o meno siamo in questa direzione allora mi studio un attimo la faccia come la vorrei realizzare magari usando due due curve magari in questo modo comincio già a vedere un po' più di dettagli posso definire come sono fatti gli occhi posso muovermi a fare insomma il tipo di forma del volto della testa la cosa più importante di un personaggio è che piaccia al lettore che sia simpatico diciamo che abbia un aspetto divertente interessante i personaggi ovviamente possono essere completamente inventati non è che dovete limitarvi a un diciamo un personaggio umano per il vostro progetto il personaggio può essere anche totalmente inventato può essere un animale ma può anche essere un oggetto per esempio il nostro personaggio può pure essere una mela diciamo questo sta a voi deciderlo